Buongiorno a tutti, mi chiamo Bob Gamble, vengo da Clearwater, Florida, negli Stati Uniti. Volevo condividere con voi quello che mi è successo all'inizio, quando ho iniziato a usare i prodotti da Lightweight. Nei primissimi sette giorni ho raddoppiato le mie energie. Dopo circa sei settimane dormivo molto meglio. Sono la persona che dorme un'ora, sveglia per due ore, dormo ancora un'ora, sveglia per un'ora. Entro quattro o sei settimane dormivo sei ore, sei ore e mezza, in un colpo solo. Questo mi ha già cambiato la vita. Ho anche avuto sette operazioni al piede e cinque al ginocchio e sono ormai 43 anni che avevo dolori cronici. Ho avuto iniezioni al cortisone, vari tipi di farmaci, niente mi ha mai aiutato. E non notai alcun miglioramento per circa sei mesi o fino all'inizio del settimo mese. Tutto ad un colpo mi svegliai un mattino e fu come se qualcuno avesse acceso una lampadina. Tutto il mio dolore, tutta la mia rigidità, tutto il mio gonfiore spariti e non sono mai più tornati. Sono passati due anni.